Al peggio di 72,5 kg, con 52 combattimenti da protezionista, 37 vittorie di cui 17 peccabolli, 12 sconfitte e 3 pari, italiano originario di Lecce, 1,80 m, world champion one song tie 2011, dalla palestra, oltre al corpo Muay Thai di Lecce, ladies and gentlemen, Mario Ceciliano! Il mio figlio di Lecce, il mio figlio di Lecce, la sua lingo, 23 incontri, 20 vittorie di cui 13 peccabolli, e 3 sconfitte, italiano anche lui, originario di Lecce, campione italiano pro WFC 2011, dalle Yababushi Gendino Milano, del maestro Luca Piafretto, ladies and gentlemen, Marco Rocchini Red! I've got my team to ready! I've got my team ready! I've got my team ready! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.